Update Crypto Asset Allocation al primo trimestre del 2022. Vediamo come si è posizionata la società durante questi primi tre mesi e soprattutto quelle che sono state le novità dal punto di vista operativo. Lo ricordo sempre, le nostre dotazioni sono in gran parte soggette a attività di castro di istituzionali e soprattutto il modello di gestione dell'intera società si basa sul Core Satellite. Cosa vuol dire Core Satellite? Vi è un cuore, il Core, un nocciolo, un nucleo che potete vedere rappresentato dal Pac-Man di colore blu scuro che rappresenta il grosso delle dotazioni, quelle in cui si ha una visione più di medio termine. Poi vi sono le allocazioni cosiddette satellitari che rientrano nella torta di colore, una fetta di torta di colore arancione, quelle che sono generalmente hot in the market, quindi che si cavalcono spesso per ragioni di modalità item trading, in cui interranno sia speculazione finanziaria fulminia e poi infine il pilastro cosiddetto ancillare in cui vengono inserite letteralmente scommesse finanziarie, quindi il fatto che magari una hidden crypto gem possa dare soddisfazione in poco tempo e trasformarsi in motore di performance con rendimenti particolarmente allettanti. A fronte di questo l'attuale composizione, come potete vedere, è rappresentata dalle seguenti crypto asset che andiamo ad analizzare nello specifico. Bitcoin ormai è arrivato a detenere come peso strategico quasi un terzo dell'intera crypto asset allocation, siamo andati ad effettuare ulteriori acquisti a rinforzo di le dotazioni che già si avevano e probabilmente arriveremo ad aumentare nel corso del secondo trimestre di quest'anno ulteriormente le nostre dotazioni. Stellar, quella al 4% è stata ridotta in favore di altre crypto asset che adesso andremo a menzionare. VET intoccabile, Algorand uguale, Atom 3%, Cosmos 3%, Anchor e TheGraph, GRT al 3% invece sono state aumentate. Band Matic invariata, Band uguale, Band Protocol uguale con un 4%, Eder Ashgraf intoccata, Mina Protocol 2% invece è stata sostanzialmente inserita durante il primo trimestre. Link, Radium e Curve non sono state più di tanto ritoccate. Convex, Phantom, siamo andati ad aumentare la loro dotazione. Near tantissimo, ecco su Near Protocol che in questo momento pesa il 3%, probabilmente siamo già al 4% considerando quello che è accaduto questa notte. Comunque, in buona sostanza, riteniamo che Near Protocol possa diventare la prossima a Solana in termini di performance. Elrond, dotazione statica inserita a Radix e anche su Radix abbiamo una forte convinzione per quest'anno. L'abbiamo inserito proprio la scorsa settimana. Non è tanto facile in questo momento prendere posizione su Radix. La società è esposta con i Radix, che è il token vrappato all'interno dell'ecosistema di Ethereum. Per ragioni di KYC per adesso manteniamo l'esposizione attraverso i Radix. Nano, USDC che rappresenta una allocazione sostanzialmente tattica per andare ad effettuare operazioni in stile di Terran. Solana 3% e Others, ossia altri, che adesso andiamo a visionare, ossia diamo visibilità anche di parte della componente ancillare. Attualmente sono motore di performance per la società in termini di valutazione complessiva del NAV. Anchor, The Graph, Band Protocol, Near Protocol e Mina Protocol. Tutte quante sono state abbondantemente recensite, in particolar modo su Near Protocol. Si è fatto addirittura anche un look fro di comparazione con Solana. Che cosa c'è dentro The Others Allocation? Benissimo, andiamolo a vedere. Come potete notare, quindi questa torta rappresenta quella allocazione del 7%. Andiamo da sinistra a destra, OneInce pesa il 5%, Dodo inserita qualche settimana fa, il noto exchange centralizzato, BadgerDAO ugualmente inserita, se non ricordo male, verso la metà di febbraio, Gala, Icon, Serum, Cadena, ecco, Cadena, probabilmente andremo ad aumentare vistosamente la sua dotazione per portarla fuori dal pilastro per adesso ancillare. Synthetics, la stessa cosa faremo anche su questo specifico crypto asset. Next, Loopring, Cryptarium, Cryptarium è letteralmente esploso in termini di peso strategico questa settimana, questi ultimi dieci giorni. Se la sua price action continuerà a dimostrarsi resiliente, è molto plausibile che Cryptarium anch'essa verrà spostata proprio perché ha iniziato ad avere un peso veramente significativo. Internet, Computer, probabilmente andremo a smobilizzarlo. Axis, inserita qua due o tre settimane fa, ne abbiamo parlato addirittura anche all'interno di una A, ma Tocke, Tocke Mac all'8%, infine Atlas 10%. Attenzione, Atlas, questa dotazione significa proprio Atlas, non il mondo di Star Atlas sul quale nella Crypto asset allocation non vengono riportati il valore della nostra fleet in staking e né tanto meno le posizioni di polis. Atlas sostanzialmente rappresenta gran parte dei rewards che riceviamo dallo staking e pertanto mese dopo mese aumenta di volume, di quantità e poi anche di controvalore in relazione alla sua price action. Che cosa plausibilmente potrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane a questa Crypto asset allocation, beh abbiamo, torniamo indietro un attimo, ho l'intenzione di andare a smobilizzare Curve, Phantom e anche Matic quando arriveranno a determinati tipi di valore, in parte per prendere un modesto beneficio ma soprattutto per riposizionarsi su altri Crypto asset che riteniamo in questo momento possono essere molto più performanti, a cominciare appunto a nostro modo di vedere da Cadena e Synthetix. Terminiamo riepilogando che la Crypto asset allocation si basa anche su tre contributi video che pubblichiamo con regolarità, i Crypto Future Leaders che rappresentano il 75% del comparto satellite, i Crypto Income Builders in parte core, in parte satellite 50-50, 50-50 e le Eden Crypto Gems che di fatto sono ancillary, pilastro ancillare 100%. Seguite i vari update che pubblichiamo su Twitter perché di volta in volta diamo visibilità anche di quelli che sono i smobilizzi e gli inserimenti tattici, a cominciare quelli che abbiamo citato proprio durante questa settimana che riguardano il caso di Cadena e Radix.